De, 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 de de, 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 de. E guardo casa mia laggiù, è un puntolino bianco e niente più Ed io sto bene qui, ad accordo è così, ad accordo è così Ben trovati ad una nuova puntata di Voci di Valle, nel primo servizio un'ampia intervista alla sindaca di Selva di Cadore Silvia Cestaro, l'impatto sul comparto turistico del coronavirus, la viabilità, i collegamenti con Cortina e Arabba e altro ancora. Nel secondo servizio Andrea De Bernardin, sindaco di Rocca Pietore, parlerà dei progetti per la scuola dell'infanzia e di quella primaria per mantenere una realtà culturale preziosa per il territorio. Saliremo poi ad Arabba per la festa di Carnevale. La diffusione del coronavirus sta rivelando i suoi effetti economici negativi su tutto il comparto turistico, disdette massicce dall'estero, alberghi che stanno per chiudere con un mese di anticipo e indotto che soffre, ma ciò che preoccupa maggiormente sarà la prossima stagione estiva. Sentiamo cosa ne pensa la sindaca di Selva di Cadore, Silvia Cestaro. La situazione è sicuramente preoccupante, credo come un po' tutti quanti i comuni turistici della nostra provincia. Per ora si mantiene, si riesce a mantenere abbastanza sotto controllo questa paura che c'è del coronavirus, bisognerà vedere poi nelle prossime settimane perché qualche disdetta è arrivata e il rischio è che arrivino tutte in un colpo nel momento in cui non ci si riesce a governare il problema a livello di Stato italiano. Intanto voglio tranquillizzare tutti perché non ci sono voci di chiusura delle funivie, delle seggiovie. Sarebbe un grosso problema per Selva particolarmente perché noi viviamo moltissimo del turismo che arriva nella parte finale della stagione, in quanto le nostre piste sono tutte quante rivolte a nord e riescono a mantenere uno stato sciabile meglio che altre zone. Il problema appena accennato non è il solo che interessa il comune, la cui economia dipende in gran parte proprio dal turismo. Ci sono ad esempio le comunicazioni. La strada sta subendo un allargamento completo di tutto quanto l'ultimo tratto, quello che va da prima dell'abitato di Solator fino alla piazza di Selva con rifacimento anche dei muri di contenimento che erano deteriorati, poi tutte quante le barriere di sicurezza, un allargamento che permetterà alla strada di essere fruibile anche dalle corriere e quindi avere un vantaggio dal punto di vista turistico. Era un lavoro assolutamente necessario. Quindi immagino che si sia stato anche risolto il problema geologico, in quanto è una zona abbastanza difficile, franosa. Sì, il problema grosso sono le falde d'acqua, che sono sotterranee e che si sviluppano in diversi corsi d'acqua, difficilmente anche intercettabili, li hanno individuati alcuni sotto i 9 metri di altezza, che sono stati tutti quanti canalizzati, bonificati, e per la maggior sicurezza di tutto quanto al territorio, vengono posti in essere dei micropalli che riusciranno a trattenere questi movimenti franosi che non sono di grande, con un fronte unico, ma sono tanti piccoli fronti che si muovono. Ci sono delle aree, purtroppo soprattutto quelle a ridosso del passo Staulanza, quindi tra Selva e Zoldo e anche andando verso Alleghe, che sono completamente senza copertura cellulare, probabilmente per una serie di dismissioni di antenne ripetitori che hanno questo costo elevato e con pochissimi utenti, ovviamente, se non nel periodo di alta stagione. Il problema grosso, da parte le chiacchiere che si possono fare al cellulare, è una questione di sicurezza pubblica, perché con quello che è successo, soprattutto con Vaia, ma anche con tutti quanti i turisti che abbiamo, sia d'estate che d'inverno, avere una rete cellulare efficiente è quanto più essenziale. Non passa giorno in cui non si parli di chiusura dei piccoli negozi? Selva, devo dire che, tolto un piccolo periodo in cui c'era stata qualche chiusura, adesso c'è una bella ripresa, riaprirà uno dei bar storici di Santa Fosca, grazie ad una ragazza molto giovane che ha deciso di fermarsi, soprattutto a Selva, questa è la cosa importante, e di investire il suo futuro e le sue energie. Anche se il territorio di Selva è interessato marginalmente al collegamento funiviario Cortina-Arabba, lei lo vede con favore o è contraria? Selva di Cadore è chiaramente interessata dal punto di vista turistico, perché questo anello di collegamento prevede un collegamento diretto tra gli impianti di Civetta e quelli di Cortina, e quindi a loro volta con tutta quanta la zona di Araba. È chiaro che la posizione delle comune di Selva, degli abitanti di Selva, ancora è abbastanza vaga, perché non abbiamo visto di fatto neanche noi una progettazione quantomeno provvisoria per capire dove passano questi impianti. Dal punto di vista turistico siamo sicuramente favorevoli, perché abbiamo assolutamente bisogno di sbocchi e di nuovi comprensori che riescano anche un po' a garantire quella che è la richiesta del turista del giorno d'oggi, che vuole potersi muovere senza grossi impegni, senza muovere le macchine comodamente e a comprezzi che riescano a coprire quante più necessità e quante più voglia di spostarsi c'è. Per quanto riguarda invece il collegamento Cortina-Arabba, il territorio non è ovviamente nostro e quindi io credo che ognuno abbia la libertà di scegliere nel proprio territorio. Probabilmente la cosa migliore sarebbe proprio prima di prendere qualsiasi tipo di posizione, conoscere esattamente dove e come si pensa di far passare questi impianti. Il problema della scarsa natalità si fa sentire con sempre maggior peso non solo nelle zone di montagna più disagiate, ma anche nei fondovalle. A soffrirne di più sono le scuole e perderle significherebbe un impoverimento culturale che si ripercuote sulla comunità che tende ad emigrare verso un contesto socio-economico culturale che garantisca un futuro migliore ai propri figli. Lo sanno bene gli amministratori interessati al problema che cercano in ogni modo di mantenere sia la scuola dell'infanzia sia la primaria. Sentiamo a questo proposito cosa si pensa di fare a Roccapietore. La regione parte dal presupposto che in montagna le scuole non si chiudono. Il problema sono eventualmente gli insegnanti. Sotto un certo numero vengono tagliati gli insegnanti. È ovvio che andare verso una pluriclasse non è un problema solo di Roccapietore ma è un problema oramai generalizzato in montagna ed è dimostrato che le pluriclassi sono anche un buon veicolo di insegnamento al pari della classe singola se non addirittura meglio. Il problema di Rocca è anche l'estensione territoriale. l'estensione territoriale ci fa sì che la parte bassa del comune e la parte mediana del comune quindi la zona di Masaré-Santa Maria lo stesso Saviner tendono ad andare ad alleghe per una comunità territoriale più che di. Il servizio che viene dato invece a Roccapietore sia all'elementare che all'asilo è altissimo. Abbiamo lavorato assieme alle maestre negli anni per dare un... Sono due piccoli gioiellini io sono andato anche l'altro giorno all'asilo di Sottoguda ed è veramente una scuola che merita di essere visitata per chi ha dei figli perché è un bijou è un bijou che noi facciamo di tutto per mantenere sia a livello economico abbiamo pronto un intervento per migliorare le caldaie i riscaldamenti i radiatori riuscire a rendere ancora più confortevole le due scuole quindi 50.000 euro che andremo a mettere divisi sulle due scuole asilo ed elementari abbiamo il... il... dopo scuola che funziona già da qualche anno e che dà un servizio altissimo stiamo ragionando sul centro estivo cercando con Alleghe una collaborazione la giusta collaborazione per far sì che a Rocca si possa pensare a un centro estivo per bambini piccoli e ad Alleghe quello per i bambini un po' più... più... più grandi quindi a Rocca quelli... fino ai 7 anni e oltre i 7 pensare di farlo ad Alleghe quindi dividerci un po' i compiti e abbiamo anche un servizio di scuolabus che va puntualmente a prendere tutti anche nelle frazioni più disagiate anche se c'è un solo bambino a Malga Ciappella o a Laste noi si va e si prende quindi su questo i cittadini di Rocca anche se delle zone più basse del comune dovessero avere dei dubbi stiano tranquilli che noi andiamo a prenderli è dal 1999 che Rocca ha istituito il contributo ai nuovi nati cosa che so benissimo non risolve il problema economico delle famiglie ma comunque è anche questo un segnale che il comune tiene ad avere bambini sul territorio se riuscissimo a fare di più secondo me bene sarebbe riuscire a farlo pluriennale quindi 500 euro sarebbe bello riuscire a darli per almeno i primi 5-6 anni certo che cominciano a diventare tanti soldi perché insomma anche pensando solo a 10 bambini 500 euro all'anno sono 5.000 euro per 6 anni sono 30.000 euro insomma bisogna iniziare a farci anche due conti ma questo sarebbe un aiuto un po' più concreto il tema del collegamento di Cortina-Rabba e di dominio comune alcuni suoi colleghi sono contrari altri decisamente a favore qual è la sua posizione? beh la discussione è più ampia si parla del collegamento alleghe con Cortina si parla di Cortina con Auronzo con Lago di Misurina si parla del Falzarego con la Val Badia e si parla di Cortina con Araba quindi c'è un progetto davvero grande di collegamenti nuovi impiantistici Rocca rimane marginale a tutta la discussione visto che c'è chi si sono creati anche in questo caso due fronde decise una per il sì e una per il no i nostri vicini di Araba con i quali siamo assieme nella zona 06 Araba Marmolada sono partiti decisamente mi sembra tutta la popolazione verso il no non lo vogliono lassù siccome noi stiamo discutendo con l'impiantista di Araba che è anche presidente della Padon ha acquistato la società nostra qui del Padon di migliorare il collegamento Araba Marmolada via Padon noi siamo attenti a questo per noi questo è prioritario collegarci in maniera migliore con Araba attraverso il Padon e migliorare soprattutto la pista del Padon che è sicuramente un budello che scende in maniera anche un po' disordinata fino a Malga Ciappela per noi questo è prioritario ed è per quello che non sono entrato in merito alle discussioni che riguardano non ho preso posizione proprio per non prendermi contro né una né l'altra per noi è importante in questo momento migliorare il collegamento con Araba poi sarà Araba che spingerà da una parte o dall'altra ma mi sembra che sono partiti decisi verso il no insomma mai successo a quanto si dà a sapere che a una festa di carnevale si canti seriamente il Tedeum in gregoriano o almeno una parte di esso è successo nella sala congressi di Araba sabato 22 febbraio quando il corofodon diretto da Lorenzo Vallazza ha eseguito l'inno sacro inserendo tra una strofa e l'altra la sigla dell'Eurovisione per sottolineare l'unità di un popolo nato è cresciuto con la cultura cristiana contro la chiusura e l'innalzamento di muri che dividono che neum laudamus laudamus e dominum compitemur e verrum patremontes perra generatum la festa è proseguita con l'esibizione del gruppo folk fodon poi il clou della serata con lo spettacolo teatrale offerto offerto dai ragazzi della scuola media in lingua ladina che ha riscosso tra il pubblico grande apprezzamento di un'esibito di un'esibito Mia sorella, la Nina, pensava che il signor Plevon era una ponte che la buda si su per Venezia, per i suoi mestieri. E io, proprio in del centro della città, senti su per una tavola, in te in cantono, in cindavoite. Non è vero la Nina che smorosava con un cittadino, anzi, ne vado i senti su. Un però non ha già fatto il vede il Polito, che le va a massas con lui, ma calauter. Le va a vestire con una braia tutta zarrada, col forcet su dal croc. Doi o tre chargli di ordine torna all'oroglio, e un botone di ferna ente il nesto. E il signor Plevon imparava ad avere due, c'è se che esluminava sull'enversione. Se mi orta, mi spiega a mio amico che la... No! Ah, se mi arrova da non su, le ari che gli dieve la sita! Io, oso, Mario, calautosata! Ci spaventa! Stavo la vedei! Lascia d'arro a su, vestidese! Grazie. Grazie.